Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di lunedì 14 dicembre 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV, c'è l'informazione con la lettura dei giornali, il commento ai giornali alla stampa del giorno, i giornali sono il resto del carino e il Corriere Adriatico. Cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito con il cartello oggi è San Giovanni della Croce, il sole esorgerà alle 7.38 e tramonterà alle 16.28 e adesso diamo uno sguardo anche al tempo. Copertina di trebimeteo.it, stop all'inverno, torna l'anticiclone ma non mancherà qualche pioggia, attenzione alla nebbia che tornerà fitta. Il bollettino delle Marche della Protezione Civile, oggi cielo sereno poco nuvoloso, così come domani martedì 15 a 10 giorni dal Natale, ancora cielo parzialmente nuvoloso con il transito di nuvole stratificate. Avremo temperature in diminuzione anche quelle della notte, attenzione alle gelate ma soprattutto alle nebbie, anche se qui per oggi, per domani e dopo domani non sono segnalate. Però per i prossimi giorni comunque la tendenza sarà di tempo buono. Allora andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesero, screening 100 nella Task Force, servono almeno 84 infermieri e 14 medici. Asur è area vasta alla ricerca di persone di supporto, positivi al Santa Colomba, si attende l'esito dei tamponi tra gli anziani ospiti di Casa Roverella. Ma a centro pagina la notizia è per la morte di Antonio Merloni, un imprenditore che è stato anche per tanti anni ex sindaco di Fabriano, una vita per la fabbrica. E sotto i commenti, le reazioni, il dolore del fratello, l'unico sopravvissuto di tutta la famiglia, te ne sei andato e adesso appunto mi sento un sopravvissuto. Francesco Casoli, altro imprenditore importante della nostra regione, arricchì le tute blu e non i manager e conosceva ogni vite. Il Vescovo dice pianse per l'azienda e per gli operai, ma la crisi era più grande di lui. Qua sotto di taglio basso, sempre dalla prima del Corriere, garage a fuoco a Pesero, marito e moglie portati in salvo, paura nel quartiere di Pantano. E poi il calcio con la Serie C, il Fano rimonta, punto salvezza che vale tanto con la Feralpi, finisce 1-1. E adesso invece il Carlino di Pesero con la fotonotizia salvata dall'ictus, muore di Covid, una madre contagiata in ospedale, la rabbia del figlio, la vittima Virginia Gabriella Gatti, ex insegnante molto conosciuta in provincia. Poi anziani strappati alla furia del fuoco, Pantano, pauroso incendio in due garage, coppia caricata in spalla dai poliziotti mentre le fiamme avanzavano. E poi attacco a Gostoli, parliamo di politica, partito imbarazzante, lo definisce Alessia Morani, che spara a zero contro il PD regionale. E poi i controlli della polizia, violato il DPCM, multa al circolo, amici del VIS. Di spalla quest'anno botti, quindi fuochi d'artificio, botti proibiti in tutta la città, in tutto il territorio comunale di Pesero. È una mozione, si tratta di una mozione presentata da Andrea Marchionni, consigliere comunale della Lega. Qui di taglio basso, lo sport, l'Alma Fano tiene botta e agguanta il pareggio. La pallavolo, volle a tre, vigila Rasbanca Sandonà, quinta vittoria stagionale. Poi invece la tragedia evitata a Pesero con un grosso masso, una grossa pietra che vola dal quinto piano, hanno sfiorati due ragazzi sotto il femminicidio-suicidio, Simona e Mourad, oggi le autopsie per scoprire nuove verità. Guardate invece la foto notizia che abbiamo segnalato questa mattina dalla pagina del Carrino di Ancona. È una foto che naturalmente non ha l'esclusiva regionale o cittadina, perché è una foto che potrebbe essere in qualunque parte e piazza d'Italia, soprattutto dei grandi centri. Domenica ad assembramenti, mare di gente in centro per gli acquisti natalizi, traffico in tilt. Questa è la fotografia con tutte le persone che ieri si sono riversate in centro, non solo, ripeto, ad Ancona, per gli acquisti natalizi. Intanto il titolo Merloni, addio al re delle lavatrici, è morto Antonio, aveva 94 anni, è stato un modello imprenditoriale di successo, sapeva ascoltare tutti. E allora entriamo nelle pagine interne della nostra rassegna stampa. Ma cominciamo da quella tragedia che ha scosso l'intera provincia, ma in particolare il piccolo borgo di Novilara, quell'omicidio suicidio. Oggi le due autopsie sui corpi dei coniugi. Simona Porceddu, 41 anni, è stata uccisa col taglio alla gola, mentre il marito omicida, 44 anni, si è suicidato gettandosi dalle mura di Novilara. Sono previste dunque per oggi le autopsie su questi due corpi. Lei, originaria della Sardegna, uccisa venerdì scorso intorno alle 12.30 dal marito da cui si stava separando e che l'ha ucciso appunto con un taglio alla gola. Questo è il Carlino. Il Corriere invece, prima di uccidersi, titolo, ha fatto sparire il suo cellulare e quello di Simona. Ricerche per rintracciare gli smartphone dell'assassino e della vittima. Oggi è attesa l'autopsia. Le ultime ore e gli ultimi minuti, messaggi, chiamate o chiamate che potrebbero dire molto sulla tragedia di Novilara, dove il marito prima ha ammazzato la moglie e poi si è suicidato, tanto che l'assassino marocchino, 44 anni, ha voluto far sparire questi due telefonini. Il suo è quello di Simona, di 41 anni, scrive Luigi Benelli sul Corriere di questa mattina. Ma in uno dei litigi con Simona ha alzato le mani, tanto da spedire la donna al pronto soccorso con lividi e botte e percossela. Poi la prognosi è stata giudicata, lei guaribile, in 8-10 giorni. Poi c'è un'altra storia invece che racconta il resto del carino questa mattina. Una donna che va in ospedale per un ictus, però muore di Covid. Il racconto è del figlio di questa donna, che si chiama Virginia Gabriella Gatti, 81 anni, ex insegnante. E il figlio dice, mia madre si è contagiata al Santa Croce di Fano, dove è stata ricoverata nel reparto di Medicina Generale 2, dove c'era il cluster, dove a un certo punto è scoppiato il focolaio. I funerali invece di Virginia Gatti si svolgeranno domani, martedì 15, alle ore 14.30, nella chiesa della Santissima Annunziata di Urbino. E sul focolaio invece a casa Roverella i positivi sono 34. Tensioni con i familiari, le rassicurazioni della cooperativa Labirinto, che non convincono, malgrado le rassicurazioni giunte da casa Roverella, dove si parla di situazioni sotto controllo e di focolaio circoscritto, però crescono i dubbi e anche le domande nella mente di chi, tra quelle mura alla Santa Colomba, ha lasciato un padre, una madre oppure un fratello. E ci si chiede come sia possibile essersi ritrovati nell'identica situazione di otto mesi fa, quando si poteva almeno invocare l'attenuante di una situazione deflagrata in maniera violenta e improvvisa, mentre adesso risulta incomprensibile che ci siano almeno 34 ospiti positivi, l'intero nucleo Alzheimer, e otto sanitari in una struttura che avrebbe dovuto affrontare questa seconda ondata con ben altro assetto. Insomma, le cose che più o meno ci siamo sempre detti negli ultimi mesi, quando è iniziata la seconda ondata, cosiddetta ondata pandemica, cioè come è possibile, dopo la prima esperienza, che nelle case di riposo che sarebbero dovute essere protette, straprotette, almeno nella seconda ondata, invece tutto come prima. Fano piange però la scomparsa anche di un'altra persona conosciuta, la scomparsa di Adele Maria Sperandini, che nell'unico inverno in cui è stata costretta a restare a Fano a causa del Covid, la signora Sperandini ormai da 15 anni viveva sei mesi a Fano e sei in Africa, in Kenya, un infarto l'ha portata per sempre lontana da qui. La vedevi tutte le mattine seduta ad un tavolino del caffè centrale, in centro a Fano, a leggere il giornale. Adele Maria per tutti la dedi. I funerali si svolgeranno alle 15 in Duomo. Controlli in centro, invece, una denuncia, un gruppetto di giovani, sempre a Fano, scrive il resto del Carlino, danneggiava le auto, è stato beccato un 21enne. Quindi questo giovane adesso probabilmente dovrà rispondere anche di tutti i danni che ha fatto. Andiamo a Pesaro, dove invece l'altra notte si è rischiato grosso per l'incendio di due garage che sono andati a fuoco, due anziani sono stati portati via a spalla, via Nicotera, corto circuito all'origine dell'incendio rimappato in piena notte, l'esplosione e poi il fumo, tre famiglie sono state messe in salvo, non ci sono state conseguenze per le persone, è morto un gatto soltanto dei pompieri. Mentre la fotografia che pubblica il giornale questa mattina, guardatela qui, guardate che roba, questo masso che tiene in mano questo giovane, è caduto dal quinto piano ed ha sfiorato alcuni ragazzini che passavano lì sotto. Probabilmente questa grossa pietra era stata utilizzata per tenere ancorato un telo, però il vento che ha soffiato forte l'ha sollevata questa pietra e l'ha fatta cadere a terra sfiorando appunto questi giovani. È successo ieri mattina intorno alle 10.30 in Piazzale degli Innocenti. Poi un escursionista, la notizia sul Carlino sempre di oggi, l'edizione di Pesaro, escursionista pesarese di 52 anni che scivola sul ghiaccio e batte la testa. Un infortunio sulla neve nel Bellunese è stato portato in codice rosso con l'eleambulanza all'ospedale di Belluno. Si trovava in Val di Gares questo 52enne pesarese che adesso è appunto ricoverato in ospedale. Il Corriere Adriatico sull'incendio di Pesaro, anziani coniugi minacciati dal fuoco, il poliziotto porta in salvo ex collega, incendio nella notte a Pantano, partito da un garage per un cortocircuito, famiglie fatte evacuare. Studentesse, sempre a proposito di fuoco, questa volta però andiamo in alta montagna, andiamo sul Monte Nerone, dove alcune studentesse avevano deciso di fare una passeggiata e sono andate ovviamente sulla cima con l'automobile. Automobile però che a un certo punto, come si vede da questa fotografia, ha preso fuoco, distrutti tutti i libri, una brutta avventura per queste due studentesse universitarie di Urbino e la gita per poco non finisce in tragedia. Sul Catria hanno chiuso invece la cabinovia alle 10.45 per evitare la formazione di assembramenti al rifugio. Sotto, schianto tra due macchine, arriva l'eleambulanza, quattro feriti nello scontro lungo la strada che collega Urbania con Sant'Angelo. Schianto tra due auto, questo invece è il titolo della pagina di Urbino, da Urbania del Corriere, grave una donna portata a Torrette, carambola a Urbania, la ferita trasportata prima all'ospedale di Urbino, sono atterrate due eleambulanze allo stadio del Monte Feltro, cinque feriti in zona Santa Maria, due coppie ed un singolo autista e tre mezzi coinvolti in una carambola avvenuta intorno alle 10.20 in zona Santa Maria del Piano ad Urbania. Poi sotto, laureato all'Uniurb, studia terapia anti-Covid, il professor Paiardini, allievo di Magnani, ha pubblicato su Cell. E poi ancora dalla nostra segna stampa, la pagina di fano del Corriere Adriatico, scappa in auto sul Prato della Rocca, assembramento di giovanissimi, un neopatentato fugge a fare spenti alla vista della Polizia Municipale, il ragazzo è stato però fermato in Via Roma in forte stato di agitazione e poi è stato anche multato, però era negativo l'alcol test, evidentemente ha avuto paura, neopatentato, evidentemente è stato preso dall'ansia, dalla paura, che tra l'altro viene accentuata anche in questi periodi e quindi ha fatto un'azione che probabilmente non scorderà. Attendiamo l'autonomia dalla Regione, Montemaggiore resiste, il Presidente Luzzi dice non ne siamo ormai certi. Poi Puliamo Fano diventa un film. Quattro pagine invece veloci da leggere sul Corriere Adriatico, sulla morte di Antonio Merloni, addio ad Antonio, fratello di fabbrica, si è spento a 93 anni il terzo genito della dinastia dei Merloni, oggi alle 9 sarà allestita la Camera Ardente in Via Veneto 116, domani l'ese equie alle 10.45 nella Chiesa della Misericordia. Antonio Merloni è stato il più grande conto terzista di elettrodomestici d'Europa, è morto nel giorno di Santa Lucia, data in cui organizzava mitiche cene per dipendenti, addirittura migliaia di persone a queste cene, lo ricorda sempre il Corriere Adriatico, lo leggiamo qui in fondo, indimenticabili le tavolate con 10.000 persone che organizzava per celebrare Santa Lucina, Santa Lucia patrona dei metalmeccanici, cene che sono già nella storia, imprenditore sindaco, perché è stato anche sindaco, con Antonio se ne va un altro pezzo di storia, tra l'altro il dramma che ha colpito la dinastia dei Merloni, un mese fa, qualcuno si ricorderà senz'altro, è morto a 53 anni anche Andrea Merloni. Mentre l'ultima pagina del Corriere Adriatico su questa vicenda sono due ricordi, due dichiarazioni, quello di Francesco Casoli, presidente della Elica, che dice che Merloni ha portato ricchezza soprattutto alle tute blu, e poi del Vescove Merito della diocesi di Fabriano Mattelica, quando racconta che Merloni pianse per i lavoratori e per la sua azienda, ma la crisi era ormai diventata più grande di lui. La pagina di fano del Corriere Adriatico, ancora, Teatro Romano, il documento segreto, gli scavi del 1800 confermano Vitruvio. Il Comune ha finanziato lavori per 70 mila euro, intanto spuntano dall'archivio di Stato interessanti disegni. Mentre qui una notizia in breve, che sicuramente farà piacere, perché parliamo di un pasticcere fanese molto conosciuto, Stefano Ceresani, titolare appunto del Caffè del Pasticcere, il Corriere Adriatico ricorda che compie 60 anni di lavoro, famosi i suoi dolci in onore di Fano come Vitruvio. Poi sotto Rosciano Insieme, semaforo sempre verde, il gruppo cittadino conferma l'impegno per l'ambiente, presentato l'annuario 2020. Sul Catria, invasione domenicale, cabinovie chiuse per sicurezza, piste non disponibili, ma rifugio aperto. Già alle 10.45 è superato il tetto massimo di 400 presenze. Vedete come c'è voglia di uscire, voglia di evadere, di andare anche fuori dalle quattro mura domestiche. 100 croci invece, terra di fuochi, nuovo rogo sospetto, vigile al lavoro a Mondolfo per spegnere le fiamme, sviluppate su vario materiale accatastato. Ora, la questione del Covid. Andiamo sulla pagina 3 del Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino. C'è questa nuova stretta che probabilmente il governo metterà in campo nei prossimi giorni, perché l'andazzo è quello che abbiamo visto all'inizio della nostra segna stampa. Tanta gente che ha voglia di uscire, ha voglia di evadere, se ne infischia di tutti i DPCM possibili e immaginabili. Natale, Natale. E quindi la gente vuole fare shopping, vuole far sì che sia tutto come prima, anche se non lo è. E allora c'è questa nuova stretta, così titola il resto del carriere di oggi, che si sta pensando per bar, negozi e ristoranti. Quindi a causa di questi troppi assembramenti si torna, probabilmente si tornerà a chiudere tutto. Oggi il governo vede il Comitato Tecnico Scientifico, forse questi stop arriveranno nei fine settimana, allo studio d'eroghe per gli spostamenti fino a 30 chilometri nei comuni sotto i 5 mila abitanti. e il Covid sul Corriere Adriatico, i casi non si abbassano, i casi non si abbassano, il governo valuta altre restrizioni. Nelle Marche anche ieri 481 persone infette, 10 morti, aumentano i ricoveri nelle case di riposo, un incontro a Roma sugli spostamenti, a fare paura sono gli assembramenti. Ora, c'è poco da dire su questi titoli, c'è poco da dire su quello che sta succedendo, le immagini, le fotografie sono eloquenti e ci dicono, ci fanno una fotografia che non lascia dubbi, non è che si può discutere molto su questa cosa. I casi non si abbassano, la gente fa finta di niente, come se nulla fosse. Intanto ci sono 481 persone infettate anche nelle ultime ore, 10 morti, che cosa volete fare? Questo è, e quindi a questo punto o si richiude tutto, come fanno in Germania, la Merkel ha deciso che da oggi o domani, in 16, insomma, fra qualche giorno, si richiude tutto fino al 6 di gennaio, lockdown totale in Germania, quindi lei dice che non si può fare il Natale con 600 morti al giorno in Germania. E se lo dice la Merkel c'è da preoccuparsi, questo è il problema, è inutile nasconderci, però continuiamo a far finta di niente. Centro sott'assedio, la sosta nel caos, norme anti-Covid, controlli e multe, tutti con le mascherine, ma le distanze sono minime, sanzionati un parcheggiatore e un ambulante abusivi. Questo è il Corriere di Senigallia. Mentre fuga per i campi dopo l'incidente, lui era ubriaco, un ubriaco che ha provocato un incidente e poi è scappato tentando di leguarsi nei campi a piedi, è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato a Marzocca. Ecco, questo per esempio è Ancona, il carlino di Ancona, assalto natalizio, il centro diventa una bolgia, migliaia di persone, code e parcheggi esauriti, nessuna differenza con una domenica di dicembre senza pandemia affari d'oro per i negozi e locali aperti per gli aperitivi. Chiaro che dietro gli affari d'oro per i negozi ci sono famiglie, dietro agli aperitivi ci sono famiglie che devono mangiare, che devono portare a casa lo stipendio. È chiaro, tutto questo è un cane che si morde la coda, chiaramente, però da qualche parte la via d'uscita dobbiamo trovarla. pattuglie della polizia locale, sempre ad Ancona, delle volanti e dei carabinieri in giro a controllare l'uso delle mascherine ed evitare assembramenti. Ora, qui sotto, lo stesso vedete Ancona con la piazza Cavour dove brilla la grande cometa che quest'anno ha sostituito la ruota panoramica, però anche qui tanta gente. Non so se ve l'ho fatta vedere la pagina, forse no, perché era insieme alla cronaca. Andiamo a vedere Pesaro, come era ieri alle 18. Ecco qua la fotografia sempre pubblicata dal giornale dal resto del carino. Questa è la foto di Pesaro in Piazza del Popolo, ore 18, tutti insieme, pochi resistono a shop e socialità. Questa è la fotografia, lo stesso, di una domenica, più o meno come le altre, insomma, come quella di un anno fa, all'incirca. Ecco, quindi qui sto per dire com'è la situazione di questo momento. Allora, andiamo a vedere adesso invece la politica. Perché? Perché Alessia Morani ha sparato a zero ieri sulle scelte della segreteria del partito regionale di addirittura ricandida il segretario di ricandidarsi. Allora, che imbarazzo questo PD, è il titolo dal Corriere Adriatico, questo PD che sceglie di autoconservarsi. Il sottosegretario Morani attacca il partito regionale dopo il voto dell'Assemblea. Nonostante la sconfitta colossale, solo Ceriscioli si è assunto una responsabilità. Mastro Vincenzo dice ignorato il messaggio nei nostri elettori. Ma andiamo a vedere la pagina invece del Carlino. Il segretario si dimette e si autoricandida. Chi è segretario? Gostoli. Il gruppo invece dell'onorevole Morani guida la rivolta, mai vista una cosa simile, dicono. E questo dopo una colossale sconfitta in Regione. l'Assemblea si è tenuta sabato, votata a maggioranza la conferma, fino al prossimo congresso. PD, i dirigenti non si dimettono, allucinante, l'altro titolo sempre dal Carlino questa volta di Pesaro, la sottosegretaria Morani accusa dopo l'Assemblea regionale del partito, i militanti chiedono discontinuità, loro vogliono invece autoconservarsi. Siamo allo sport, soltanto per parlare del Fano che ha pareggiato ieri in casa 1-1 contro la Feralpi Saloperi, il Fano va bene così, titolo del Corriere di oggi, la Feralpi va in vantaggio ma l'Alma risponde subito con Parlati e strappa un buon pari. Alla fine per la squadra Granata resta un altro prezioso punto nel carniere in ottica salvezza. E ancora dopo le pagelle l'Alma tiene botta e agguanta il pareggio dal Carlino, Feralpi ripassa alla mezz'ora del secondo tempo subito replica di Parlati Granata corto di energie ma alla fine il punto arriva il risultato finale 1-1 al Mancini di Fano una diagonale di Baldini su assist di Marino che si stampa sul palo da lì il ritmo è intenso le pagelle a Madillo e Marino i piedi sono buoni e anche il cervello questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa forse facciamo in tempo sì facciamo in tempo intanto salutiamo i nostri amici che ci seguono anche dalle pagine social della pagina di Occhio alla Notizia di Facebook che ci guardano in diretta tutte le mattine attraverso i cellulari allora andiamo a rivedere velocemente la pagina le pagine di apertura dei due quotidiani il Corriere e il resto del carino abbiamo ancora un minuto screening 100 nella Task Force si parla dello screening che verrà nei prossimi giorni quello su base volontaria servono però almeno 84 infermieri e 14 medici asure e area vasta alla ricerca di persona di supporto si parla anche di positivi al Santa Colomba si attende l'esito dei tamponi tra gli anziani ospiti di Casa Roverella poi centro pagina la notizia della morte di Merloni imprenditore ed ex sindaco ciao Antonio una vita per la fabbrica poi sotto garage a fuoco marito e moglie portati in salvo e questo invece è il resto del carlino il resto del carlino la fotonotizia è per la morte di Virginia Gabriella Gatti un ex insegnante molto conosciuta in provincia questa donna salvata dall'ictus muore di covid all'ospedale è stata contagiata all'interno di medicina del reparto di medicina 2 del Santa Croce di Fano la rabbia del figlio poi quest'anno senza botti a Pesero in tutta la città è perlomeno la proposta la mozione presentata dal consigliere della Lega Andrea Marchionni poi Masso una grossa pietra che cade giù dal quinto piano sfiorati invece due ragazzini e poi il femminicidio e il suicidio di Novilara Simona e Mourad oggi le autopsie per scoprire nuove verità anziani strappati alla furia del fuoco Pantano pauroso incendio in due garage coppia caricata in spalla dai poliziotti mentre le fiamme avanzano e poi sotto abbiamo visto l'Alma Fano che tiene botta e poi la vigila la Palavolo che sbanca a San Donà quinta vittoria consecutiva stagionale vi saluto a questo punto vi ricordo che alle 18.30 oggi avremo l'appuntamento con Babbo Natale per i bambini che giocano ogni giorno ogni lunedì mercoledì venerdì in diretta con Babbo Natale in diretta e poi la 20.30 il telegiornale con Occhio alla Notizia grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.